Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di IcaroTG. Vediamo insieme i titoli principali della giornata. Emergenza Baby Gang. A Riccione ancora una rapina ai danni di giovani turisti e caccia un gruppetto di nordafricani. Due delle tre positività al coronavirus individuate si riferiscono a persone di rientro dall'estero. In regione casi ancora contenuti e vero decessi. Eolico, perplessità bipartisan ma il consiglio comunale boccia l'ordine del giorno per dire no al progetto. Anche il Tar respinge il ricorso del Rimini Calcio contro la retrocessione in D. Ultima speranza il consiglio di Stato. Un'altra rapina sempre ad opera di giovani magrebini. Non si sa ancora se il quartetto che nella tarda serata di ieri è aggredito in Viale Ceccarini Treventenni sia lo stesso che ha colpito anche nelle scorse settimane. Ma Riccione a Rimini è Emergenza Baby Gang. I tre turisti di Varese rapinati hanno raccontato ai carabinieri di essere stati circondati all'improvviso nel bel mezzo di Viale Ceccarini. Intorno alle 23.30 da quattro nordafricani che li hanno minacciati con quello che ai loro occhi è sembrato essere un taser. Spaventati i giovani varesini hanno consegnato alla Baby Gang i contanti circa 30 euro. Ottenuto quello che volevano i quattro magrebini si sono dileguati a piedi. I militari hanno perlustrato il centro e le zone limitrofe alla ricerca dei responsabili. abilissimi però a far perdere ogni traccia come in altre occasioni. Vedremo eventuali sviluppi. E ora passiamo al coronavirus. Tre nuovi positivi del covid nel Riminese, due dei quali di rientro dall'estero. Mentre in Regione i nuovi contagi sono 18 ma nessun decesso. Ulteriori dettagli nel servizio. Con la nuova ordinanza regionale per chi rientra dai paesi extra-UE scatta comunque l'isolamento domiciliare e anche il tampone. È così che sono stati individuati i due uomini risultati positivi al covid. Il primo, straniero, era tornato da un viaggio in Ucraina, mentre il secondo, italiano, dal Sud America. Entrambi sono residenti a Rimini. La terza positività invece riguarda una donna, residente a Salleo, scovata con l'attività di screening sierologico. Cinque le nuove guarigioni in provincia, con i casi attivi che scendono così a 36. A livello regionale i nuovi contagiati sono 18, a fronte di 4.000 tamponi e 1.500 test sierologici. Calano i casi attivi, 19 in meno di ieri, e i pazienti ricoverati nei reparti covid, 5 in meno. Aumenti importanti delle guarigioni, ieri 37 in tutta l'Emilia-Romagna, 23.548 in totale, l'81% dei contagiati da inizio emergenza. Le persone in isolamento domiciliare, poco più di 1.000, sono il 91% di quelle malate. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi da coronavirus in regione. Primo concorso pubblico post-covid, questa mattina al Palazzetto di Rimini. Nella prima delle tre giornate di prove, sono stati meno della metà rispetto alle domande di candidati che si sono presentati. In palio, 11 posti per educatore di nido. Vediamo. Dovevano sostenere l'esame in primavera, il covid le ha costretti a fare le prove in piena estate con la mascherina, ma non ci sono stati disagi per i 235 candidati sui 487 che erano attesi che stamattina si sono presentati al Palazzetto Flaminio per la prima giornata di prova scritta del concorso che ha messo a bando 11 posti a tempo indeterminato per educatore al nido di infanzia. In tutto 1.365 le domande arrivate. Per garantire il distanziamento previsto dal nuovo protocollo operativo, l'amministrazione ha diviso la prova in tre giornate. Si proseguirà infatti anche giovedì 16 e venerdì 17 luglio. Regolare, sì sì, è stato abbastanza bene. Più veloce del previsto, ecco. E la prova con la mascherina? L'ingresso è intorno alle 10. Non c'è stata la misurazione della febbre, ma la consegna di un'autocertificazione sullo stato di salute da parte dei candidati. Poco dopo le 13 erano già in tanti ad aver consegnato la prova. Lo slittamento dell'esame di qualche mese ha sconvolto i piani di qualcuno, ma ha anche dato più tempo per studiare. Dovevamo farlo a maggio e invece dopo poi ha slittato tutto. Ci ha dato più tempo per prepararsi in alcuni casi, però vediamo com'è andata. Adesso lo sappiamo a fine, non quando è che lo sappiamo? 10 agosto, quindi un po' di vacanze ce le prendiamo e poi incrociamo le dita. E adesso non resta che sperare. Speriamo sia andato bene, ecco. Partecipare a un concorso significa mettere in moto parecchie cose, quindi è andata. Speriamo bene. Incrociamo le dita. Grazie, buona giornata. Il Covid è stata un'esperienza difficile anche per i bambini e se questa fase di uscita dall'emergenza è ancora segnata da tante incertezze sui mesi futuri, vede ad esempio le modalità di riapertura delle scuole, ci sono aspetti di questa esperienza di cui possiamo fare tesoro per il futuro. Abbiamo chiesto un consiglio alla psicoterapeuta riminese Elisa Facondini, ospite oggi di Radio Icaro su come far vivere al meglio questa fase ai bambini. Tutto ciò che era conosciuto improvvisamente è cambiato in senso più preoccupante, no? È ancora presto per capire gli effetti che il Covid ha avuto su tutti noi. Come per gli adulti e anche per i bambini il trauma c'è stato, dicono gli esperti. Ma qualcosa di buono possiamo ricavarlo da questa esperienza. Abbiamo ritrovato i tempi lenti e per i più piccoli con le attività ancora riprese a singhiozzo c'è stata una riscoperta positiva di vecchi giochi e anche della cara vecchia noia. Parlando con i genitori in questo periodo, molti bambini hanno riscoperto la possibilità di giocare con la mamma e col papà a giochi magari che avevano messo negli scaffali non più utilizzati da tantissimo tempo, ricreando anche delle nuove routine come non so al momento cinema, oppure il momento del gioco dell'oca o con i bambini più piccoli, insomma proprio il gioco del teatrino, del mettere in scena delle storie, insomma, della possibilità anche stimolati dalle scuole, perché è stato fatto comunque uno grosso sforzo da parte anche delle scuole della prima infanzia, oltre che degli ordini superiori, di dare degli spunti attraverso i video filmati che hanno fatto pervenire alle famiglie, di come poter passare questo tempo. A segnare i mesi passati per bambini, ragazzi e genitori, specie per le mamme, è stata poi la didattica a distanza. Ora si guarda con speranza e allo stesso tempo timore alla riapertura a settembre delle scuole. Come prepararsi? Non caricare se stessi ai ragazzi di troppi pensieri, ma vivere alla giornata, oltre a mantenere la fiducia nell'altro, pur nel distanziamento sociale, sono le chiavi per vivere bene questa fase, secondo la psicoterapeuta. Innanzitutto uno stare con i ragazzi per prepararli nel qui e ora, cioè fino a quando le informazioni devono, non sono informazioni certe, è inutile caricare i ragazzi di questa incertezza. Ancora le idee sono molto variopinte, diciamo così. Ieri sera il dibattito in consiglio comunale a Rimini si è incentrato sull'ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Gennaro Mauro per dire no al progetto di impianto eolico davanti alla costa riminese. Tante le perplessità bipartisan emerse negli interventi dei consiglieri e dello stesso sindaco, ma alla fine il consiglio ha votato contro. 15 a 10 l'esito della votazione. Vediamo una breve sintesi del dibattito. E vorrei davvero che da stasera partisse un momento di condivisione che vada al di là delle posizioni politiche di centro-destra e di centro-sinistra per portare avanti tutti insieme una battaglia rivolta, diciamo, affinché questo intervento e questo progetto non possa venire realizzato. Abbiamo migliaia, migliaia e migliaia di chilometri di costa in tutta Italia. Voi ci proponete un parco eolico composto da più di 50 ecomostri da mettere sul mare in una di quelle che ancora oggi per nostra fortuna è la capitale, una delle capitali del turismo del paese. Ma è vero che questa società di energia UIN 2020 è una SRL? Perché se così fosse non è che abbia molte garanzie. Ci sono degli aspetti, come è stato detto, il grosso impatto ambientale, tutto il tema del fine vita dell'impianto che sono ancora veramente da capire, ma non possiamo con questa discussione limitarci a dire sì o no a questo progetto. Dobbiamo andare oltre, cioè dire sì fortemente, noi in questo crediamo, tutto il tema delle energie rinnovabili, ma creare veramente una prospettiva su questo senso nel territorio. Noi stiamo per dire no a queste condizioni, ma discutiamone e mettiamo in campo un progetto che è condiviso. Suggerisco, immagino che non sarà fatto, di ritirare l'ordine del giorno che è stato presentato, di fare un consiglio comunale aperto dove invitiamo l'azienda, dove invitiamo gli esperti. Io ritengo che il discorso oggi di quell'insediamento, di quel campo eolico sia un intervento poco compatibile con quella che è la nostra realtà. Io colgo, per questo trovo anche un po', ma lo dico in modo molto tranquillo, un po' fragile l'ordine del giorno di Mauro, non perché non ponga nei contenuti e anche nelle riflessioni che hanno fatto i consiglieri dei punti condivisibili, ma perché quei punti, io qui colgo anche allora davvero, forse con ingenuità, non lo dico strumentalmente, un salto anche dell'opposizione che finalmente si rende conto che è necessario un cambiamento paradigmatico dello sviluppo in generale. Tema doloroso quello delle assunzioni in Emilia-Romagna, mai così male da sei anni a questa parte. I dati emergono da un focus realizzato dalla Regione che evidenta come il settore dei servizi sia quello più in crisi con territori come Rimini che sono in grande affanno il servizio. Per la prima volta dopo sei anni il mercato del lavoro in Emilia-Romagna causa dell'emergenza sanitaria una forte battuta d'arresto. Mentre marzo ha assegnato una sostanziale tenuta ad aprile c'è stato il crollo di assunzioni, meno 68% rispetto allo stesso mese del 2019 e a pagarne le spese sono soprattutto donne e lavoratori a tempo determinato e impegnati nel lavoro somministrato. Garanzie maggiori per i dipendenti a tempo indeterminato grazie alla sospensione dei licenziamenti alla Cassa Integrazione. 183 milioni di ore usate tra gennaio e maggio. Forte contrazione per commercio, alberghi e ristoranti con oltre 16 mila assunti in meno e la provincia di Rimini tra i territori più colpiti. Un settore, quello dei servizi fortemente femminile, ciò ha comportato che le posizioni di lavoro perse nel periodo marzo-maggio siano più numerose per le donne, meno 21.540, cioè il 56,6% del totale. Qualche cenno di ripresa a maggio con una crescita del 40% su aprile delle assunzioni con dati più significativi per l'industria, dove sono risalite al 70,4% del livello registrato a febbraio. Ancora molto in affanni i servizi. Sempre a maggio le attivazioni di nuove posizioni sono al 47,4% di quelle di febbraio. In crescita le richieste di Naspi, che tra marzo e maggio sono aumentate del 36% rispetto al medesimo periodo del 2019. In Regione sono 330 mila le domande per l'indennità di 600 euro accolte al 22 di maggio. I collaudi sulla infrastruttura filoviaria del metromare fanno slittare la ripartenza del servizio con i mezzi già utilizzati nella fase sperimentale. La data al momento ipotizzata è il 25 luglio, una decina di giorni dopo il 15 annunciato a fine giugno. La prima prova di collaudo si è svolta l'8 al 9 luglio, mentre la seconda si svolgerà la prossima settimana. L'intenzione, spiega la provincia, è di accelerare la procedura e ipotizzare l'entrata in servizio dei nuovi acquisiti, i filobus a trazione elettrica che costituiranno la flotta del metromare entro l'anno. Il primo dei nove filobus era arrivato nel deposito del TPL di Rimini il 12 giugno. Gli altri erano attesi con consegne ogni due settimane. E si è tenuta oggi in regione la presentazione della nuova campagna di promozione turistica e culturale delle 10 città d'arte emiliano romagnole. Testimonial d'eccezione l'attore emiliano Stefano Accorsi, impegnato per tre anni come ambasciatore per il rilancio dell'eccellenza della nostra regione, con video itinerari anche a tema cine turistico. Sentiamo Accorsi e anche il governatore Bonaccini. È una grande emozione fare il testimonial per la propria regione perché è come quando fai un film nella tua regione, attingi alle tue radici, attingi a qualcosa di profondo. Poi per carità un attore lavorando negli anni e quindi facendo ruoli diversi si esercita ad attingere magari a quella parte anche per ruoli che non sono della tua regione. Però è come quando parli nella tua lingua, devi parlare comunque in una lingua straniera. Cambia, cambia qualcosa. C'è qualcosa che... c'è un click e quindi per me è una grande opportunità. Questo ruolo che Stefano ricoprirà, questo ruolo di testimonial, per noi è molto importante perché vogliamo riprenderci il prima possibile, perché scommettiamo sul turismo, scommettiamo sulla cultura e il cinema, diciamoci la verità, è un veicolo, è un linguaggio universale formidabile. Rimini, non so, io ci sono stato spesso anche con il teatro, quindi sempre nei mesi invernali ha un fascino durante tutto il periodo. Poi conosco dei riminesi ed è inutile dire quanto siano legati i riminesi alla loro terra, quindi insomma mi avvarrò anche del loro contributo e del loro punto di vista. E a margine della conferenza l'assessore al turismo Corsini si è soffermato sul fenomeno degli assembramenti in Riviera. Ascoltiamo. Bisogna fare i controlli, bisogna che i gestori dei locali rispettino le regole, ma direi che lo fanno in stragrande maggioranza, poi naturalmente non sempre è possibile farle rispettare e noi siamo chiamati naturalmente a sensibilizzare tutti i giorni di continuo non solo i gestori ma anche i cittadini, soprattutto quelli più giovani che pensano di essere diciamo in qualche modo immuni, ma in realtà devono stare molto attenti anche loro come tutti naturalmente a rispettare queste regole. Insomma sono abbastanza fiduciose che il senso civico alla fine prevarrà e anche le situazioni particolarmente critiche che ci sono anche in Riviera ma non solo in Riviera possono essere gestite e controllate. Chiudiamo quest'edizione con lo sport, niente da fare neanche nel secondo grado di giudizio per la Rimini Calcio. Il Tar del Lazio infatti ha respinto il ricorso del club bianco-rosso contro la retrocessione in Serie D senza aver potuto giocare i play-out, confermando così la decisione del collegio di garanzia dello sport del CONI. Ora la società bianco-rossa dovrà decidere se ricorrere o meno al terzo grado di giudizio, ovvero il Consiglio di Stato. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata. Grazie.